venti giorni con julian questa mattina alle sette mia moglie sua sorella elizabeth una e rosebund sono partite lasciando julian e me padroni della casupola rossa il primo commento del signorino a quel punto è stato papà non è bello che la piccolina se n'è andata assoluta certezza che condividessi quel suo sentimento mi è sembrata assai bizzarra perché è bello gli ho chiesto perché adesso posso strillare e strepitare quanto voglio ha risposto lui e nella mezz'ora successiva ha dato libero sfogo ai suoi polmoni fin quasi a squarciare la volta del cielo poi si è messo a menar colpi su una cassetta vuota mostrando di godersi moltissimo il baccano che faceva nel corso della mattinata tuttavia è sprofondato in un sogno ad occhi aperti e mi è sembrato molto malinconico quando gli ho chiesto a cosa stesse pensando mi ha risposto oh a mamma che se n'è andata non mi piace quando sto lontano da lei e poi si è messo a fantasticare raccontando che avrebbe preso dei cavalli per inseguirla al galoppo altri si è dichiarato che vuol bene a una e che lei non lo ha mai stuzzicato non so come siamo riusciti a cavarsela con il bagno del mattino e con altre attività sensate di tal fatto è impossibile scrivere leggere pensare e anche dormire durante il giorno perché in un modo o nell'altro ricorre a me continuamente eppure è un ometto così gioviale e amabile che sa darmi inframezzato a tutto il fastidio un innegabile piacere nel pomeriggio abbiamo fatto una passeggiata fino al lago e ci siamo divertiti a lanciare sassi nell'acqua finché messi in guardia dall'addensarsi delle nuvole ci siamo avviati verso casa a metà strada nel bosco siamo stati sorpresi da un acquazzone e ci siamo seduti su un vecchio tronco marcio mentre le gocce picchiettavano in gran copia sugli alberi sopra le nostre teste julian ha gradito la pioggia e mi ha elargito moltissimi commenti sul tempo va infatti notato che tiene in gran conto la propria sagacia e si reputa incomparabilmente più saggio e avveduto del padre ha continuato a piovere per tutto il giorno al punto che mi sembra ricordare che julian non sia più uscito per i giochi al chiuso c'era il coniglietto che non si è rivelato un compagno molto interessante e mi crea più seccature di quanto meriti se ne vorrebbero due di conigli in modo che uno potesse mettere in luce i pregi dell'altro se mai ne avesse fra tutte le creature di dio i conigli devono essere senz'altro le più insignificanti priva di ogni giocosità muta come quella di un pesce inerte la vita del coniglietto trascorre in un sonacchioso torpore quando non rasucchia trifoglio lattuga foglie di piantaggine spinaci selvatici e molliche di pane di tanto in tanto a dire il vero è colto da un breve slancio di vivacità ma più che altro sembra nervoso ha una fisionomia singolare simile a quella di qualcuno che conosco ma non ricordo chi di primo acchito sembra una fisionomia piuttosto solenne e aristocratica ma se la si esamina più da vicino si rivela ridicolmente vacua julian gli presto ormai scarsissima attenzione lasciando a me tutta la fatica di raccogliere le foglie per la povera bestiola che altrimenti rischierebbe di morire di fame sono fortemente tentato dal maligno di ucciderlo in segreto e mi auguro di tutto cuore che missis peters lo affoghi oggi julian ha trovato un ottimo modo per passare il tempo grazie al coltello a serramanico fortunatamente del tutto smussato che gli avevo dato perché si divertisse a tagliuzzare qua e là così ha costruito quella che a sua dire è una barca e ha dichiarato di voler fare quattro stuzzicadenti per sua madre per sé per una e per me per ben due volte ha coperto di truccioli il pavimento del salottino traendone un diletto talmente inesauribile che la perdita di un dito a due non sarebbe credo un prezzo poi così alto da pagare verso le sei e mezza l'ho messo a letto e sono andato all'ufficio postale dove ho trovato una lettera di missis man per febe non mi sono attardato e sono ritornato a casa verso le otto sotto una quazzone a letto senza cena non avendo altro da mangiare che pane stantio e mal cotto martedì 29 luglio in piedi alle sei una mattina fresca e ventosa in cui il sole faceva capolino attraverso nubi tetre e così basse da sembrare appoggiate sulle colline che urlano la nostra valle ho fatto il bagno e poi ho chiamato julian che si è svegliato in un batter d'occhio e ha cominciato a reclamare la mia presenza un po' prima che fossi pronto ad accogliere la sua mi ha accompagnato a prendere il latte e strada facendo ha ruzzato e saltellato dando così prova di essere in ottime condizioni fisiche dopo colazione ha immediatamente preteso il coltello a serramanico e si è messo a fabbricare gli stuzzicadenti quando la rugiada è evaporata siamo usciti per andare nel fienile e poi in giardino così in una maniera o nell'altra metà mattinata è passata e sono già le dieci e mezza più tardi julian si è messo a giocare con una mazza e una palla facendo un baccano infernale nella stanza e felicitandosi continuamente ad avere il permesso di fare tutto il rumore che gli pare in assenza della neonata si gode così tanto questa libertà che qualunque rumore faccia non intendo frenarlo poi abbiamo portato fuori il coniglio e l'abbiamo messo sull'erba all'aria aperta da il meglio di sé il suo tratto più interessante è il carattere apprensivo si agita di continuo come una foglia di pioppo tremulo il minimo rumore lo fa sussultare e il movimento delle orecchie tradisce ogni sua emozione sobbalza e si affanna a raggiungere la sua casetta ma un attimo dopo rispunta fuori e si mette a rosicchiare erba e piante per poi sussultare di nuovo e subito dopo rassicurarsi talvolta si lancia in una corsetta ma senza ragione alcuna proprio come una foglia secca soffiata via da uno sbuffo di vento non credo che tali paure siano per lui davvero tormentose è nella sua natura viverci in mezzo e mischiarle come una sorta di salsa piccante ad ogni boccone che mangia riscattano la sua vita dall'uggia e dal torpore al sole sembra disagio e per istinto cerca l'ombra l'ombra di un ciuffo di frasche quella di Julian o la mia oggi sembrava convinto da personaggio importante qual è di correre un pericolo troppo grande nello spazio aperto dell'aia e ha approfittato di varie occasioni per arrampicarsi in braccio a Julian alla fine poiché soffiava un freddo vento di nord ovest troppo freddo per me soprattutto quando una delle mille nubi fuoriere di pioggia intercettava il sole siamo rientrati tutti e tre è un pessimo proprio pessimo clima è impossibile sapere per dieci minuti di fila se fa troppo caldo o troppo freddo ma è l'una o l'altra cosa e ne conseguono inevitabilmente gravi disagi per l'organismo come lo detesto lo detesto odio i Berkshires con tutta l'anima e sarai felicissimo di vederne spianare le montagne Luther e il vecchio Mr Burns ne parlano come se si trattasse di un clima eccezionale può anche darsi ma io sono più portato a credere che in estate la variabilità atmosferica sia una caratteristica del tutto prevedibile delle regioni collinari ad ogni modo e sia messo qui nero su bianco in questo luogo in cui mi ero augurato di godere di perfetta salute mi sono reso conto per la prima volta di non poter affrontare impunemente la natura in tutti i suoi umori da quando siamo rientrati Julian ha ripreso quel benedetto coltello a serramanico e ora è impegnato a tagliare e a filare come dice lui e a menar colpi parlando tra sé e sé e con gran soddisfazione di ogni suo progetto o impresa dopo pranzo agnello arrosto per me e riso bollito per Julian abbiamo fatto una passeggiata fino al lago lungo la strada abbiamo guerreggiato contro i cardi che impersonavano draghi e idre dalle molte teste e contro enormi tassi barbassi nel ruolo di giganti uno di questi ultimi ha opposto una resistenza così energica che nello scontro mi si è spezzato il bastone perciò l'ho ridotto a una lunghezza adatta a Julian che ha quindi dato voce a un bizzarro miscuglio di rammarico e soddisfazione per ciò che io avevo perduto e lui guadagnato arrivati al lago si è messo a scavare con grande ostinazione alla ricerca di vermi che dovevano servirgli per prendere un pesce ma non è riuscito a trovarne neppure uno poi abbiamo lanciato in acqua un incalcolabile numero di sassi per il piacere di vedere gli schizzi io ho anche costruito una barchetta con un pezzo di giornale per vela e le ho fatto prendere il largo dopo molto tempo il luccichio della vela si scorgeva ancora a grande distanza era un pomeriggio bellissimo di carattere autunnale con un sole splendente, tiepido e gradevole ma con una certa frescura nell'aria tanto che per quanto poco piacevole fosse stare al sole dopo aver trascorso un po' di tempo all'ombra sono stato costretto a ritornarvi i nembi che si trascinavano nel cielo gettavano ombre scure e fitte sui pendii esposti al sole esprimendo in forma visibile il contrasto tra il calore e la frescura della giornata l'aria era particolarmente trasparente come se tutta la bruma si fosse raccolta in quelle nubi dense gli oggetti lontani si distinguevano con un grande nitore e la catena dei monti taconiche sembrava fatta di una materia blu scuro di cui si scorgevano tutte le sporgenze e le asperità e non di qualcosa di nubiforme come spesso appare un sole dolce illuminava con il suo largo sorriso il lago increspato dal vento di nord-ovest sulla strada di casa abbiamo ripreso la guerra contro i cardi che hanno tremendamente sofferto nel combattimento julian ha uno spirito davvero battagliero e mette tutta l'anima nei colpi che assesta non appena rientrati ha chiesto il coltello a serramanico e adesso non la smette di assillarmi chiedendomi di ammirare le sue gesta benedetto colui che ha inventato i coltelli a serramanico più tardi siamo usciti a cogliere il ribes qualunque sia l'attività in cui siamo impegnati lui chiacchiera in continuazione dicendo spesso cose bizzarre che non posso trascrivere perché non riesco ad afferrarle o perché nel frattempo le dimentico fra l'altro durante la raccolta del ribes si è interrogato sugli arcobaleni chiedendo come mai non si chiamassero archi di sole o archi di pioggia e sole e poi ha sostenuto che le corde di quegli archi fossero fatte di ragnatele e che è quella la ragione per cui non si vedono a volte lo sento ripetere delle poesie con buona intonazione ed espressività non perde mai le staffe e il buon umore ed è certamente felice come una pasqua non è già quando è solo ma se mi interesso a lui o partecipo ai suoi giochi è quasi troppo per poco non scoppia dal ridere e dalla felicità il piccolo Marshall Butler è appena venuto a informarsi se fosse arrivato il pappagallo temo che finché non accadrà avremo ogni giorno il privilegio di una sua visita vorrei tanto che gli fosse stato dato il primo pappagallo quali che fossero i suoi difetti visto che raramente la presenza di chi che sia mi è risultata intollerabile come quella dell'odioso monello Julian l'ha ignorato del tutto continuando a chiacchierare a dedicarsi alle sue attività dando prova di un'imperturbabilità che non posso fare a meno di invidiare un consumato uomo di mondo non avrebbe saputo far di meglio dopo aver curiosato nella stanza ed esaminato i giocattoli Marshall se n'è andato erano circa le sette quando ho messo Julian a letto ed è superfluo dire che ero felice di sbarazzarvene è stato il primo momento della giornata in cui mi sono liberato della sua presenza forse è vero che il troppo stroppia verso le otto è arrivata Mrs. Stappan portandomi tre giornali e il primo volume di Ben Dennis mi è sembrata d'ottimo umore ho letto i giornali fino alle dieci e poi a dormire mercoledì 30 luglio in piedi poco prima delle sette una mattina fredda e avvilente con un vento che credo sfiri da sud est minacciando pioggia Julian poltrisce se ne sta disteso per terra e pare in qualche misura sensibile al clima spero che non stia per abbattersi su di noi un lungo temporale la giornata è così poco incorrozzante che non abbiamo fatto la passeggiata mattutina limitandoci a uziare tra il granaio e il giardino il coniglietto ha acquisito grande dimestichezza ci viene incontro saltellando ogni volta che entriamo nella stanza e si rizza sulle zampe posteriori per vedere se abbiamo qualcosa per lui Julian gli ha cambiato nome si chiamava Primavera ribattezzandolo Zampette si finisce con l'affezionarsi a questa amabile bestiola soprattutto quando si mostra fiduciosa e a proprio agio è piuttosto seccante tuttavia procurargli il cibo pare infatti che abbia bisogno di mangiare quasi di continuo ma gradisce l'erba e le foglie solo quando sono assolutamente fresche il pane lo sbocconcella un po' e poi lo lascia l'ho appena preso un po' di avena verde dal campo di Mrs. Stappan tra tutto ciò che è commestibile pare preferire sopra ogni altra cosa le scarpe di Julian e non appena se ne presenta l'occasione se ne concede un bocconcino alle quattro ho vestito Julian e ci siamo incamminati verso il villaggio lui ruzzando e saltellando come una capretta o cogliando fiori come un bambino del paradiso i fiori non avevano alcuna bellezza se non quella creata dai suoi occhi nel guardarli ciò nonostante a lui sono sembrati i più leggiadri al mondo ci siamo imbattuti in una carrozza su cui viaggiavano tre o quattro giovani signore tutte palesemente ammaliate dal fascino irresistibile di Julian a dire il vero è raro che lui si imbatta in una gonnella senza rapirle il cuore è proprio strano ciò che io non riesco a scorgere nel signorino una tale straordinaria magia arrivato all'ufficio postale non ho trovato con mio grande disappunto poiché non avevo neppure preso in considerazione una simile eventualità una lettera di Febe né altro per me soltanto una lettera e un giornale per Mr. Tappan così ho impostato la lettera per Pike che ho scritto qualche giorno fa e dimenticato di spedire e una breve lettera per Febe scritta oggi e ci siamo subito rimessi sulla via di casa mentre risalivamo la collina prima di giungere all'altezza della casa di Mr. Birch abbiamo incontrato un carro su cui sedevano Mr. James la moglie e la figlia di ritorno da casa nostra dove avevano appena lasciato i biglietti da visita è inseguita una conversazione molto piacevole e cordiale lui è indubbiamente un'ottima persona e sua moglie è una donna semplice e buona affabile e di buon cuore e la figlia una ragazza simpatica nonostante Julian ha trovato Mr. James piuttosto noioso e ha detto che la conversazione non gli era piaciuta affatto in realtà il poverino era stanco morto di stare in piedi Mr. James ha parlato della casa dei sette abbaini e dei racconti narrati due volte e di lì è passato a divagare sulla letteratura inglese in generale lonti a casa abbiamo trovato la cena di Julian già pronta lui ha mangiato e adesso sembra pronto per andare a letto dove ora alle sei e mezza conto di spedirlo in serata ho letto Penn Dennis e poi ho concluso la giornata con una coppa di latte di gallina giovedì 31 luglio verso le sei ho gettato un'occhiata oltre il mio letto e mi sono accorto che Julian era sveglio e mi stava sbirciando di sottecchi con lo sguardo di chi trattiene una risata così ci siamo alzati gli ho fatto il bagno l'ho fatto anch'io dopodiché mi sono offerto di arricciargli i capelli ho dimenticato di dire che ci avevo già provato due mattine fa con risultati prodigiosamente fallimentari a dire il vero l'insuccesso è stato di proporzioni tali che non appena ho accennato a ripetere il tentativo il caro ragazzo è scoppiato a ridere tuttavia ho insistito e gli ho attorcigliato i capelli intorno a un bastoncino fin quasi a strappargli dalla testa mentre lui non la smetteva di ridere e di strillare in un misto di dolore e allegria ho cercato di spiegarmi come lo fa sua madre ma le istruzioni non erano molto chiare e sono servite soltanto a ingarbugliare ancora di più la faccenda ma ora che sono asciutti i capelli non hanno poi un aspetto così terribile compiute tali operazioni sulla sua chioma siamo andati a prendere il latte la mattina era di nuovo nuvolosa e sconfortante e a oveste lungo tutta la cresta della collina si estendeva una nube talmente imbevuta di umidità da sembrare una spugna fradicia che rendeva cupo torvo ed esolato il pendio boscoso sottostante anche la monument montagne aveva una nuvola sul globo ma sui versanti splendeva il sole dandole un'aria molto allegra per cui la montagna che occupa il centro della scena ravvivava l'intero quadro come un cuor contento anche le sue foreste a differenza delle altre colline erano rischiarate e i tratti disposcati apparivano doppiamente soleggiati mentre un campo di segale a valle risplendeva ad un giallo fulgore illuminando il paesaggio mentre proseguivamo il cammino il marmocchio sgranocchiava un pezzo di pane e parlava della vugiada così la pronunciata dicendo che secondo lui erano state le fate a versarle sull'erba e sui fiori dalle loro piccolissime brocche poi mi ha tormentato perché gli dicessi su quale lato della strada pensavo che l'erba bagnata fosse più bella così mentre il charlare continuava incessante come se al mio fianco scorresse un ruscello siamo giunti a casa di Luther dove il vecchio atropos ha preso il secchio con un truce sogghigno e me lo ha riempito di mezzo gallone di latte poiché la giornata era fredda e il sole non così forte o persistente da asciugare la rugiada abbiamo trascorso buona parte della mattinata il chiuso il signorino come al solito mi ha importunato con innumerevoli domande e commenti su ogni suo passatempo dopo pranzo abbiamo fatto una passeggiata fino al lago giunti nei pressi della riva abbiamo visto a poca distanza una barca qualche istante dopo ne ha approdata un'altra e l'equipaggio è sceso a terra erano tre uomini con l'aria dei per di giorno mi hanno chiesto se nelle vicinanze ci fosse acqua potabile poi si sono diretti verso l'interno per visitare i dintorni come costume dei viaggiatori che mettono piede in territori sconosciuti al che Julian si è avvicinato alla loro barca e dopo averlo osservata con grande interesse ha scoperto con un grido che dentro c'erano dei pesci era solo qualche carpa e pesce gatto il signorino pretendeva che salisse sulla barca e salpassi insieme a lui tanto che è stato difficilissimo portarlo via di lì con un pezzo di legno gli ho costruito una barchetta e appena l'ho calata in acqua si è diretta verso Ponente visto che oggi il vento ospirava da est poi dopo esserci fatti strada nell'intrico dei cespugli ci siamo seduti in riva al lago e lui si è messo a lanciare in acqua dei pezzi di muschio dicendo che erano isole verdi isole galleggianti e che sopra c'erano gli alberi e gli uomini e le fattorie di lì a poco nonostante le sue rimostranze ho insistito per tornare a casa lui ha raccolto un bastone e ha ricominciato la vecchia guerra contro i cardi che abbiamo chiamato Idre, Chimere, Draghi e Gorgoni in tal modo lottando con grande tenacia siamo giunti a casa e così è trascorsa la giornata fino ad ora le 4.20 all'inizio dell'estate avevo pensato che con i pascoli ingialliti e la mietitura dei campi il paesaggio non sarebbe più stato così bello perdendo quel verde tanto vivido e puro ma ora lo considero un cambiamento in meglio sui pendii delle colline il verde sbiadito e qua e là i toni quasi bruni e scuri dei campi creano un contrasto molto pittoresco con il verde intenso dei boschi prima di cena è arrivata Missy Stappan con due o tre volumi delle opere di furie che desideravo prendere in prestito in vista del mio prossimo romanzo ha invitato Julian a giocare con Ellen domani io ho consentito non certo a malincuore e anche il signorino mi è parso contento dell'idea adesso ha cenato e verrà subito messo a letto Missy Speters il cui marito è malato o mal ridotto probabilmente ubriaco stasera dorme a casa sua e tornerà domani mattina ora che Julian è a letto ho raccolto e schiacciato del ribes e poi ho dato al coniglio la sua cena a base di lattuga cosa che sembra piacergli più di ogni altra cosa benché nulla di vegetale gli risulti sgradito oggi ha mangiato una foglia di menta con gran gusto a quanto pare mi fa sorridere vedere come mi corre incontro ogni volta che apro la porta per assicurarsi che ci sia qualcosa in serbo per lui e poi scoprire di cosa si tratti annusando con foga mangia smisuratamente e credo sia molto ingrassato da quando è arrivato qui il mistero che lo circonda in mancanza di qualunque mezzo per comunicare con questa creatura priva di voce non fa che accrescere il mio interesse e poi è per natura così succubo delle sue piccole paure che è un piacere scoprire come riesca a liberarsene quando è con Julian o con me venerdì primo agosto ancora una giornata fredda e tetra tanto che quando siamo andati a prendere il latte ho messo a Julian una giacca di lana in cielo le nubi erano riunite in conclave plenario ma inframmezzate da azzurro e dagli sporadici bagliori di un pallido sole la Monument Mountain era in ombra questa mattina mentre la catena dei monti ad occidente era illuminata dal sole l'aria era particolarmente tersa al punto che non ricordo di aver mai visto il Taconic stagliarsi con tanto risalto come oggi sembrava ergersi appena al di là della Monument Bruin ci ha corso dietro per la gran gioia di Julian ma sulla via del ritorno il cane ha cominciato a ruzzare in modo un po' troppo turbolento al che il signorino preso da un congenito terrore per la razza canina è scoppiato in lacrime stare all'aperto era così poco piacevole che abbiamo trascorso la mattinata in casa io mi sono dedicato alla lettura di due lettere di Febe di una straziante brevità e dei giornali che Mrs. Peters aveva portato dall'ufficio postale verso le undici Deborah e la piccola Ellen sono venute a prendere Julian per portarlo a Highwood così sua maestà se n'è andato e non l'ho più rivisto fino a dopo pranzo ho imballato gli arnesi per scolpire di Febe e li ho spediti a Mrs. Mann che per una qualche ragione li desidera spero che Febe con tutti i fastidi e le preoccupazioni che ha non si lasci convincere ad apportare modifiche al busto di Mr. Mann se tale eventualità mi fosse venuta in mente prima non avrai certo spedito gli arnesi abbiamo mangiato oggi i primi fagiolini della stagione i primi prodotti del nostro orto a dire il vero se si escludono ribes e lattuga alle tre Julian è incasato ha detto che a pranzo aveva mangiato pomodori fagioli e asparagi che gli erano piaciuti moltissimo e che si era divertito mi sono vestito ho vestito lui e alle quattro siamo usciti per fare una passeggiata fino al villaggio la posta non era ancora arrivata e perciò siamo andati nell'ufficio di Mr. Fairley dove abbiamo incontrato lui e Mr. Sedwitz e poi a casa sua o meglio nel suo pollaio per ammirare lo splendido gallo e le galline ho lasciato intendere a Mr. Sedwitz che in autunno vorremmo prendere la casa a Mrs. Campbell dopo essere ripassati all'ufficio postale dove ho ritirato la mia corrispondenza e quella di Mr. Tappan ci siamo avviati verso casa ma poi abbiamo scavalcato una staccionata e ci siamo seduti nel boschetto dell'amore in modo che potessi leggere i giornali mentre ero impegnato nella lettura sulla strada è passato un uomo a cavallo che mi ha salutato in spagnolo gli ho risposto portandomi una mano al cappello e ho continuato a leggere ma quando il cavaliere ha rinnovato il suo saluto l'ho guardato con maggiore attenzione e mi sono accorto che era Herman Melville allora Julian e io ci siamo affrettati a tornare sulla strada e dopo i convenevoli ci siamo avviati tutti insieme verso casa chiacchierando Mr. Melville è subito smontato da cavallo e ha fatto salire in sella Julian l'ometto era compiaciutissimo e seduto con la scioltezza e la temerarietà ad un cavallerizzo provetto ha cavalcato verso casa per almeno un miglio ho chiesto a Mrs. Peters di preparare del tè per Herman Melville ma lui ne ha bevuto soltanto una tazza perché temeva l'avrebbe tenuto sveglio dopo cena ho messo Julian a letto e Melville e io abbiamo parlato del tempo e dell'eternità di cose di questo e dell'altro mondo di libri, di editori e di ogni argomento possibile e impossibile fino a notte fonda e a voler essere del tutto sinceri abbiamo anche fumato un sigaro entro i sacri recinti del soggiorno alla fine Melville si è alzato ha sellato il cavallo che avevamo messo nel fienile e si è diretto verso casa mentre io ho subito approfittato del poco tempo rimastomi per dormire sabato 2 agosto questa mattina ci siamo alzati verso le 6 e mezza ho fatto il bagno a Julian poi l'ho fatto anch'io e infine dopo avergli debitamente arricciato la zazzera siamo andati a prendere il latte per la prima volta da tempo immemorabile la mattina era davvero piacevole non si vedeva neppure una nube ad eccezione di qualche stria bianca e luminosa in lontananza verso sud la monument mountain tuttavia era interamente coperta da una lucente coltre di bruma ne immergeva soltanto la cima occidentale anche lungo quel versante c'erano delle brume sospese tra le cime degli alberi mentre parte della stessa bruna involatasi verso l'alto aveva formato in cielo vere e proprie nuvole tali vapori si stavano allontanando rapidamente e nell'arco di tempo necessario per sbrigare la nostra commissione sono del tutto svaniti ho dimenticato di riferire nell'annotazione di ieri sera che Herman Melville mi ha invitato a trascorrere qualche giorno a casa sua insieme a Julian la settimana prossima quando vi saranno anche De Wiking e suo fratello ho accettato l'invito non foss'altro che per una notte e dunque Melville verrà a prenderci alle 10 ho mandato Julian a Highwood con il coniglietto perché lo regali ad Ellen la verità è che la nostra casa è troppo piccola e non disponiamo di un alloggio adeguato per l'ottimo coniglio le cui abitudini a dispetto della grande stima che nutro per lui non lo rendono esattamente idoneo occupare in pianta stabile il soggiorno il nostro tappeto di paglia comincia a risentire seriamente di alcuni suoi comportamenti a Highwood possono se lo desiderano dargli una stanza tutta per lui o insomma farne quello che vogliono e con il coniglietto con quei suoi piccoli vezi così graziosi e un carattere degno ad essere studiato mi era davvero simpatico aveva acquisito una grande mestichezza nei nostri confronti dava l'impressione di gradire la nostra compagnia e veniva sempre a sedersi vicino a noi sorvegliando ogni nostro movimento è dotato credo di grande curiosità e spirito d'osservazione e presta attenzione a tutto ciò che gli accade intorno nessun'altra bestia e pochi esseri umani di mia conoscenza sono capaci di essere discreti quanto lui che pure è sempre presente e pronto a ficcare ovunque le sue zampette non posso non rammaricarmi della sua partenza sia per noi sia per lui temo infatti che Ellen lo strapazzerà stringendolo con troppa forza e sottoponendolo ad altri tormenti e che a Highwood nessuno terrà in conto le sue abitudini quanto me è un peccato che per certi aspetti non si è riuscito a piegarsi a una disciplina anche Julian sembrava un po' dispiaciuto di separarsi dal coniglio ma era così felice al pensiero di regalarlo ad Ellen che non ha fatto obiezioni non è ancora ritornato per dirmi come è stato accolto il dono le undici e non un quarto Julian è rientrato e mi riferisce che non lo hanno ringraziato affatto del coniglietto e che Ellen ha cominciato a stringerlo fortissimo sin dal primo istante c'erano Deborah Carolyn ed Ellen non hanno capito da principio che il coniglio sarebbe rimasto lì e quando Julian ha fatto per andarsene gli hanno chiesto se avesse intenzione di lasciarlo certo ha risposto Lometto d'ora in poi e di Ellen al che non hanno detto più niente Julian sostiene tuttavia che sembravano contente di tenerselo temo che quel povero coniglio sia condannato a soffrire per il resto della sua vita Ellen a quanto racconta Julian ha afferrato il povero animaletto per la pelliccia e per una zampa posteriore lasciandolo dondolare per aria e poi ha commesso altre atrocità di vario genere forse avrei fatto meglio ad affogarlo ma può darsi che ne abbia ancora l'opportunità non mi stupirai infatti se ce lo restituissero Julian dice di aver avuto una gran voglia di riprenderselo e correre a casa prima di pranzo abbiamo fatto una passeggiata fino al lago dove abbiamo trovato una barca tirata in secco e se non fosse stata legata alla radice di un albero saremmo partiti in viaggio alla volta di paesi sconosciuti lo metto è salito sulla barca e si è molto divertito soprattutto quando sul fondo ha scoperto dei pesciolini già marci che evidentemente erano lì da vari giorni dopo pranzo è arrivato mister ferli come in qualche modo mi aveva preannunciato ieri quando ci siamo visti era sua intenzione tentare di prendere qualche pesce perciò siamo andati tutti e tre al lago Julian era davvero in estasi sarebbe del tutto inutile cercare di impedirgli di diventare un pescatore c'è in lui un istinto naturale che prima o poi verrà appagato e non vedo poi per quale ragione ciò non debba accadere dal momento che non potrebbe nutrire propensione più innocua questo pomeriggio tuttavia a sorte non ci ha riservato nulla che potesse indurlo ad appassionarsi a tale attività abbiamo pescato soltanto qualche carpa e qualche pesce persico che il signorino ha subito afferrato per la coda esaminandoli una dopo l'altro con il più compiaciuto interesse e saltellando continuamente come per solidarietà con i guizi dei poveri pesci dopo un po' Mr. Farley ed io ci siamo stancati e così ci siamo incamminati tutti verso casa quanto a bellezza e serenità il pomeriggio era davvero perfetto tiepido al punto giusto né più né meno Mr. Farley non si è fermato per il tè ed è tornato a casa portando con sé giacchetta bianca di Herman Melville ho messo Julian a letto alle sette o giù di lì e sono andato a cogliere un po' di ribes mentre ero così impegnato è passata Mrs. Tappan che costeggiava il giardino dal lato del secondo fienile le ho chiesto se Julian avesse donato il coniglio ad Ellen con il dovuto garbo lei ha riso e mi ha risposto di sì aggiungendo però che la bestiola si era rivelata piuttosto fastidiosa che Ellen la maltrattava e che il cane la inseguiva continuamente per farla breve si trattava di un acquisto poco desiderabile ha detto che avrebbe potuto dare il coniglietto al piccolo Marshall Butler e poi in risposta a qualcosa che avevo detto io sull'eventualità di porre fine alla sua esistenza ha suggerito che l'avremmo potuto abbandonare nel bosco e cavarsela da solo c'è in tal idea qualcosa di caratteristico che rivela il genere di sensibilità di chi trova sgradevoli il dolore e l'infelicità degli altri come se si trattasse di cattivi odori ma si sente a perfetto agio una volta che costoro siano stati allontanati suppongo che per nessuna ragione al mondo Mrs. Stappan avrebbe ucciso il coniglietto benché fosse pronta ad esporlo alla certezza di una lenta morte di fame senza alcuno scrupolo o rimorso vedendo che non c'era altro da fare le ho proposto di riprenderlo e lei ha promesso di portarmelo domani Mrs. Speters è tornata a casa sua dopo cena durante la serata ho letto pen dennis ho mangiato circa due pinte di polpa di ribes e alle dieci sono andato a letto domenica 3 agosto fra le due e le tre l'ometto mi ha svegliato lanciando un urlo e caso strano l'ho trovato completamente zuppo c'era stata l'alluvione nel suo letto e soltanto lì perciò sono stato costretto a scendere per cercargli una camicia da notte pulita e fare tutto il possibile per dargli un po' di conforto nel caso nel caso di Julian un simile incidente si può quasi considerare senza precedenti si è voluto un bel po' prima che mi riaddormentassi e quando alle sei e mezza passate mi sono svegliato lui sembrava sveglio già da parecchio gli ho fatto il bagno l'ho fatto anch'io e poi come al solito ho acceso il fuoco in cucina e sono andato a prendere il latte la mattina era perfetta con un sole largo e splendente e credo non una sola nube in tutto il cielo ad eccezione di qualche ghirlanda di foschia sparsa qua e là sui pendii delle colline in lontananza il lago era liscio come uno specchio e restituiva il riflesso immobile dei boschi e delle colline la superficie specchiata è l'aspetto più bello per un bacino così piccolo a casa di Luther Butler abbiamo incontrato il suo suocero il vecchio mister Burns che tagliava i capelli a un giovane il paziente era seduto su una sedia davanti alla porta della cucina e il vecchio che sembrava operare con grande destrezza gli aveva ridotto i capelli a pochi centimetri di lunghezza conferendo alla superficie del suo capo un aspetto molto regolare ho detto a Julian che dopo colazione l'avrei mandato a prendere il coniglietto benché il viso gli si sia illuminato di gioia lo metto mi è parso confuso ma papà ha detto sai bene che l'ho lasciato lì perché adesso è di Ellen e quindi non posso riprendermelo a meno che non sono loro a rimandarselo ho messo a tacere i suoi scrupoli raccontandogli ciò che mi aveva detto Miss Stappan e così ha cominciato subito a smaniare per andare a riprenderlo verso le nove l'ho lasciato andare e circa mezz'ora dopo è tornato con il coniglietto nella sua casetta la povera bestiola sembrava aver perso gran parte della sua fiducia nella natura umana e restandosene l'intanata quanto più possibile in un angolo della scatola ha ignorato i miei approcci e rifiutato la foglia di lattuga che le offrivo credo proprio che abbia vissuto grandi tormenti durante la sua assenza Julian dice che ci è voluto molto tempo prima di riuscire a portarselo via per colpa di Bruin quel cagnazzo cattivo che voleva a tutti i costi acchiappare il povero coniglietto ho letto Pendennis fino alle dodici mentre il caro ragazzo si divertiva in giro poi quando mi sono accorto che era sceso nella valle l'ho raggiunto e mi sono sdraiato sotto un melo Julian si è arrampicato sull'albero e si è seduto a cavalcioni di un ramo il suo viso paffuto e allegro faceva capolino tra le foglie verdi mentre su di me grondava uno scroscio ininterrotto di chiacchiere simile a un acquazzone estivo ha detto che gli sarebbe piaciuto vivere per sempre su quell'albero e costruirsi un nido di foglie voleva essere un uccello per volare lontano e si sarebbe calato in una buca profonda e mi avrebbe portato un sacco pieno d'oro poi sarebbe andato in volo fino a West Newton dove si sarebbe riportato mamma a casa sul dorso poi avrebbe volato fino all'ufficio postale per ritirare le lettere e poi avrebbe preso fagioli zucchine e patate dopo un po' l'ho fatto scendere dall'albero e quando ci siamo allontanati di qualche passo abbiamo scoperto un eco straordinaria ripeteva ogni parola pronunciata dalla vocina chiara di Julian riproducendo tutta l'esuberanza della sua conversazione ma quando uno di noi gridava forte sentivamo il grido ripetuto tre o quattro volte l'ultima da una voce che sembrava provenire da una zona remota al di là dei boschi e somigliava in modo strano e fantastico alla voce originale quasi che degli esseri simili a noi stessero urlando da distanze invisibili Julian ha gridato mamma una e molte altre parole e poi ha urlato il proprio nome e quando il suono è tornato indietro ha detto che a chiamarlo era la mamma che cosa davvero strana e misteriosa è l'eco alle due tutta la famiglia ha pranzato Julian con una fetta di pane io con una torta alla crema e il coniglietto con qualche brisola della crosta io e l'ometto poi siamo scesi fino al lago la crociata contro i cardi prosegue ma anche i tassi barbassi ricevono la loro parte di colpi dopo aver bighellonato un po' in riva al lago ci siamo avviati verso casa attraversando il campo e l'impolente pineta di mister fox mentre io disteso sulla schiena guardavo il cielo fra i rami degli alberi Julian ha impiegato quasi un quarto d'ora credo per abbattere il fusto di un solo enorme tasso barbasso a volte dà davvero prova di fermezza e perseveranza abbiamo passeggiato nel bosco tra le alte colonne formate da quegli annosi pini e poi siamo tornati a casa costeggiando una palude dove ho raccolto un fascio di stianze e con ciò la nostra storia giunge all'ora presente quando mancano pochi minuti alle cinque forse oggi ho meno pazienza del solito oppure il signorino la mette a dura prova ad ogni modo mi sembra proprio che mi abbia tormentato con più domande commenti e osservazioni di quanto un padre mortale sia pronto a sopportare non mi lascia mai solo e mi fa quasi uscire di senno infilando continuamente una sua parola tra le pieghe di ogni frase che leggo e mandando in mille pezzi qualunque tentativo di riflessione alle sette l'ho messo a letto ho colto e schiacciato del ribes ho passeggiato dietro casa guardando assorto il lago e le colline ho mangiato il ribes ho dato una scorsa a un giornale avendo finito il primo volume di pen dennis e sono andato a letto prima delle dieci lunedì 4 agosto 1851 ci siamo alzati verso le sei e mezza e Mrs. Peters è arrivata prima che avessimo finito di fare il bagno mentre andavamo a prendere il latte è apparso un sole tiepido ma non luminoso attraverso un sottile strato di nubi diffuso in tutto il cielo l'ometto sembrava vivace e in forma benché durante la notte si fosse girato e rigirato tanto da svegliarmi parecchie volte dopo colazione ho riempito un intero vassoio con i fagiolini del mio orto mentre Julian ha riempito un secchio di latta con quelli raccolti nel suo territorio privato da qualche tempo l'ometto si interroga sull'età di sua madre e sostiene che abbia vent'anni così piccolina esclama e ha già vent'anni con il passare delle ore il tempo ci è fatto più freddo a causa del vento che soffiava da Levante o se solo recasse con sé un effluvio di salsedine naturalmente con questo clima infernale mi sono preso un raffreddore e ho trascorso la giornata a tremare senza la ben che minima voglia di muovermi la giornata si intende fino a quando poco dopo le quattro Julian e io siamo usciti per andare in paese l'ometto invece ha conservato tutto il suo buon umore e si è dedicato a qualche opera di falegnameria battendo e martellando con non pochi disagi per la mia testa anche se in mezzo a tutto quel trambusto sono quasi riuscito ad assopirmi quando poi siamo usciti Julian ha trottato come un giovane puledro con le sue instancabili gambette giunto all'ufficio postale non abbiamo trovato nessuna lettera per una qualche ragione la posta proveniente da Est non era arrivata una vera sventura così siamo andati in tribunale per far visita a Mr. Fairley e dopo esserci trattenuti un po' nel suo ufficio abbiamo fatto dietro front per tornare a casa il signorino mi ha assillato perché gli procurassi un'arancia ma a contentarlo avrebbe voluto dire farmi una lunga scarpinata fino all'altro capo del villaggio Julian sembrava attivo e vispo come sempre sulla strada verso casa mentre io ero triste torvo e privo di elasticità ho imboccato il viale che conduce a Highwood per consegnare una lettera e un giornale a Will Burney e trovata aperta la finestra del suo studio sono entrato ho preso l'home journal e l'ho letto in veranda seduto su una sedia ho messo Julian a letto alle sette e poi avvolto nella vestaglia imbottita mi sono accomodato nel salottino ho preso un po' di Nux Vomica e sono andato a letto prima delle dieci martedì 5 agosto ho dormito abbastanza bene e lo stesso ha fatto il signorino anche se una volta con tutto quel suo girarsi e rigirarsi è riuscito a svegliarmi ci siamo alzati come al solito alle sei e mezza il mio raffreddore pareva in via di guarigione la giornata come abbiamo avuto modo di appurare andando a prendere il latte era molto meno fredda di ieri ma il cielo era tutto coperto di nubi plumbe che si posavano qua e là sulle creste dei colli neppure un alito di vento il lago perfettamente liscio mentre tornavamo da casa di Luther l'ometto che era rimasto un po' indietro per cogliere dei fiori si è messo a correre e ha fatto un terribile capitombolo ora manca un quarto alle undici il solo evento degno di nota sinora è stato una visita ero seduto nel salottino quando qualcuno ha bussato alla porta d'ingresso Mrs. Peters mi ha detto che una signora desiderava vedermi perciò sono salito di sopra in punta di piedi per rendermi il più presentabile possibile nel breve tempo a mia disposizione e poi sono sceso in salotto la visitatrice era una signora piuttosto giovane e attraente con occhi cladevoli e intelligenti e un grazioso abito quacquero mi ha teso la mano e ha parlato con grande semplicità ma in modo signorile dell'interesse che nutre per le mie opere e del fatto che trovandosi nei paraggi non aveva saputo resistere al desiderio di farmi visita ha invitata ad accomodarsi in soggiorno in modo che potesse ammirare la vista dietro casa abbiamo parlato del paesaggio e di varie persone e cose Lowell Whittier Mr. James Armand Melville sono stati chi più chi meno oggetto di discussione a quanto pare la signora è amica intima di Whittier e sapeva della visita che egli ne ha fatto due o tre anni fa i suoi modi erano davvero gradevoli la semplicità quacquera e un pizzico di frasiologia quacquera aggiungevano un certo sapore alla sua aria di raffinata donna di mondo aveva un sorriso piacevole e occhi che rispondevano prontamente al pensiero del suo interlocutore perciò non è stato difficile parlare con lei una libertà singolare e tuttavia delicata nell'esprimere le proprie opinioni una totale mancanza di affettazione questi i tratti che più mi hanno colpito è tutto considerato la sua è stata l'unica visita gradevole che abbia mai ricevuto nella mia veste di scrittore piuttosto che tediarmi con le lodi dei miei scritti sia limitata a dire che ci sono autori la cui conoscenza ci appare come un privilegio in virtù della particolare affinità che sentiamo per le loro opere o qualcosa del genere eccetera eccetera Julian nel frattempo non ha fatto che arrampicarsi in braccio a me e comportarsi in tutto e per tutto come un grosso e goffo bambino di due anni indossava la giacca di lana con cui questa mattina avevo ritenuto prudente abbigliarlo a causa del vento dell'est in presenza della signora tuttavia glielo tolta gli avevo spazzolato e arricciato i capelli dopo colazione ma le mie fatiche erano servite soltanto a peggiorare la situazione lei gli ha sorriso ha lodato il suo aspetto sano e ha chiesto se somigliasse alla mamma osservando che non notava alcuna rassomiglianza con me alla fine si è alzata per andarsene e io l'ho accompagnata fino al cancello dove nel prendere concedo mi ha comunicato il suo nome Elizabeth Lloyd poi dicendomi arrivederci se ne è andata per la sua strada e non l'ho più rivista non era in carrozza aveva fatto una passeggiata abita a Philadelphia Julian mi ha permesso di baciarlo oggi per quel poco che sono riuscito a leggere ho letto Fulier dopo pranzo abbiamo fatto una passeggiata fino al lago il tempo è ancora incerto e non fa che minacciare pioggia senza mai mettere in pratica la minaccia ma più che di minaccia bisognerebbe ormai parlare di promessa dal momento che la stagione è estremamente arida il livello del lago è sceso di 5 o 6 piedi una cosa che non avevo mai visto e il ruscello è secco per buona parte del suo corso l'effetto della siccità è invisibile anche sulle chiome degli alberi nei boschi che nell'arco di pochi giorni si sono svoltite al punto da gettare un'ombra non più così fitta tale mancanza di umilità è forse una delle ragioni per cui si cominciano a vedere foglie secche e gialle e anche interi rami spogli ma sono molte le caratteristiche autunnali che ormai è possibile scorgere i fiori gialli il giallo dei campi di grano l'erba che ha perduto i suoi umori e si è come increspata tutto narra la storia di un culmine ormai superato ma quando è successo io di certo non lo so mentre tornavamo a casa Julian è stato punto a una gamba da una vespa e si è messo a urlare a più non posso è successo mentre scavalcavamo la staccionata del campo di avena di mister tappan all'inizio sembrava che gli facesse un male tremendo ma ancora prima di arrivare a casa si è ripreso tanto da chiedere insistentemente un pezzo di pane e dell'acqua piuttosto che un rimedio per la puntura io gli ho prima medicato la gamba con della tintura d'arnica poi gli ho dato da mangiare e così siamo ormai alle cinque e un quarto Julian continua a tormentarmi con le sue curiosità proprio adesso ad esempio mentre si sta divertendo a tagliuzzare con il mio coltello a serramanico papà se tu avessi comprato tutti i coltelli che c'erano nel negozio come faresti a trovarne un altro se hai rotto tutti quelli che hai andrei altrove gli ho risposto ma ciò non è bastato a metterlo in pace e se avessi comprato tutti i coltelli del mondo che faresti a questo punto la mia pazienza non ha retto e l'ho supplicato di non infastidirmi più con domande così assurde credo proprio che una sculacciata gli farebbe un gran bene l'ho messo a letto tra le sei e le sette e visto che il mio raffreddore non migliorava affatto alle nove sono andato a letto anch'io mercoledì 6 agosto ci siamo alzati verso la solita ora la gamba e il piede dell'ometto erano gonfi e infiammati a causa della puntura di vespa di ieri ma se al tatto si lamentava del dolore per il resto non pareva troppo a disagio gli ho dato due capsule di aconito e gli ho consigliato di non accompagnarmi a prendere il latte ma lui ha insistito e se l'è cavata senza alcun inconveniente la mattina era terza e mite e l'aria particolarmente limpida nonostante qualche nuvola dall'utero abbiamo preso anche del burro che ho dato al signorino visto che io dovevo già portare il latte ha protestato con voce secca rapida e acuta molto simile allo squittio di uno scogliattolo infuriato ma quando ho ragionato con lui facendogli notare quanto fosse ingiusto che io portassi due pesi mentre lui non ne aveva nessuno ha subito ceduto non mi ha mai lasciato portare il burro neanche quando mi era sembrato che lo avesse portato a sufficienza dopo colazione abbiamo raccolto delle zucchine le prime che il nostro orto abbia prodotto poi ho arricciato la chioma un'arte in cui mi accorgo di non fare alcun progresso non erano ancora le dieci credo quando siamo usciti per fare una passeggiata sino al lago la mattinata infatti era bellissima con un sole caldo e freschi aliti di vento al lago l'ometto si è procurato un vecchio ramo secco alla cui estremità ha legato una pagliuzza si è messo a pescare con una fiducia davvero commovente poi abbiamo attraversato il bosco verde e scintillante di luce per raggiungere la spiaggetta nei pressi della strada di Stockbridge dove ci siamo entrambi divertiti per un po' a far galleggiare in acqua ramoscelli e pezzetti di legno io però mi sentivo molto indolente a causa di questo raffreddore che tracinandosi più del solito mi rende pigro e mi ottunde non sono stato perciò un compagno di giochi all'altezza del vivace mostriciattolo erano passate le dodici quando siamo rientrati dopo pranzo siamo andati nel fienile a ristorarci in mezzo al fieno nuovo e quando siamo tornati in casa ho trovato due lettere una di Febe che mi faceva un breve sunto delle sue fatiche l'altra di Pike a proposito della possibilità di una casa in riva al mare avevamo già deciso di andare in paese nel pomeriggio e perciò poco dopo le quattro ci siamo incamminati il sole era caldo e di tanto in tanto spirava una folata di brezza fresca ancora quel clima diabolico che tanto ci perseguita quest'estate anche se la brezza in ogni caso era gradevole all'ufficio postale non ho trovato niente tranne il museum e una lettera di un collezionista di autografi ho comprato della marmellata come mia unica consolazione in paese Giulia nada particolarmente inquieto al punto che sono andato via senza comprare lo zucchero in pani di cui abbiamo bisogno da tanto tempo si agitava tanto che ho sospettato fosse come dice lui in termini tecnici in imbarazzo ci siamo fermati nel boschetto dell'amore e lì l'ho di nuovo interrogato a tal proposito ma ancora una volta mi ha risposto di no era così agitato tuttavia che gli ho consigliato di tornare a casa prima di me e lui di conseguenza si è avviato di gran carriera l'ho raggiunto sul pendio della collina prima di arrivare all'altezza della casa di mister Butler mentre ero ancora a una certa distanza l'ho sentito pianucolare e nell'avvicinarmi mi sono accorto che camminava a gambe larghe povero piccolo aveva i calzoncini completamente fradici è una vera crudeltà vestire un bambino in modo che non sia libero di rispondere in qualsiasi momento al richiamo della natura ai ragazzi non piace parlare dei propri bisogni soprattutto quando sono così insolitamente frequenti come oggi è capitato a lui l'ho messo a letto verso le sette ora siamo tra le otto e le nove sul calar della sera proprio qualche istante fa è venuta Missy Stappan a prendere in prestito delle uova gliene ho date sette e a chiedere se intendessi scrivere di nuovo a Sofia prima del suo ritorno in tal caso vorrebbe che lei le portasse dieci libri di farina di riso ho sfogliato un giornale in serata e poi a letto prima delle dieci giovedì 7 agosto ci siamo alzati un po' più tardi del solito questa mattina non prima delle sette stando al nostro orologio che tuttavia va avanti di venti minuti rispetto a quello del villaggio una mattinata calda e senza vento con un sole già cocente anche se velato qua e là da una nube abbiamo percorso la nostra solita via lattea rispetto agli ultimi tempi la vista delle colline era mutata a causa di una radiosa foschia che avvolgendo gli oggetti lontani li relegava a una distanza ancor più remota è stata una mattinata pigra almeno così l'ho percepita e anche l'ometto privo della consueta vivacità ha mostrato di subire il medesimo influsso non si può dire lo stesso tuttavia dei due o tre scoiattoli che abbiamo visto sfrecciare in cima alle staccionate Julian mi ha parlato dei fiori velenosi che a sentir lui urlano il ciglio della strada e che non bisogna toccare a mani nude dopo colazione abbiamo raccolto dei fagiolini poi ho arricciato la zazzera di Julian ma notato che i suoi capelli cominciano ad assumere un aspetto decente soltanto all'indomani delle mie fatiche così che ogni mattina distruggo regolarmente il lavoro del giorno precedente la pazienza con cui Julian si sottopone a tale operazione è davvero esemplare nel corso della mattinata è cominciato a piovere e non ci siamo potuti spingere più in là del capanno degli attrezzi e del fienile mister Waldo ha portato qui per qualche minuto una delle sue figlie che era nei campi insieme a lui è una bambina molto graziosa di circa tre anni con grandi occhi scuri e un feccino buffo e allegro Julian rimasto sulle sue prestandole pochissima attenzione a parte correre a prendere il coniglietto dietro mio suggerimento stava diventando proprio un vero ragazzino da questo punto di vista vale a dire un mostriciattolo imbottito di stupide buone maniere la bambina era molto incuriosita dal coniglio che ha scambiato per una specie di gattino e per un attimo ho sperato di potermi sbarazzare del prezioso animale cedendolo a mister Waldo per il bene di sua figlia lui però non si è offerto di prenderlo abbiamo parlato di furielismo e di argomenti simili e mi è sembrato un uomo riflessivo e intelligente mi ha detto che oggi Cornelius sarebbe andato in paese e gli ho dato una lettera che aveva scritto a Febe cosa di cui mi ramarico un po' poiché non avrò mai la certezza che sia stata impostata dovrò dunque scriverne un'altra prima di domenica ha continuato a piovere per tutto il pomeriggio qualche istante fa la vista era molto pittoresca se solo riuscissi a dipingerla con le parole sulla nostra valle attraversandola da est ad ovest si stendeva un pesante baldacchino di nuvole che parevano quasi ad agiarsi sulle colline da entrambi i lati a sud non giungevano fino alla monument mountain che era esposta al sole e coperta a metà pendio da una nube attraversata dai raggi di luce e perciò nel bel mezzo del temporale sotto il nostro nero tetto di nuvole potevamo contemplare quella scena radiosa dove la gente si godeva il bel tempo sulle nostre teste le nubi erano così basse che sembrava di essere sotto una tenda il cui telo d'ingresso fosse stato sollevato in modo da poter ammirare quel paesaggio assolato ciò è durato per parecchi minuti ma alla fine l'acquazzone si è spostato verso sud e si è quasi portato via la monument mountain rendendola invisibile anche se in questo momento comincia a riemergere dalla nebbia Julian ha passato il pomeriggio in modo molto vario costruendo una frusta poi un arco e delle frecce e giocando a shanghai contro se stesso non credo fosse trascorsa un'ora dal pranzo quando ha cominciato ad azillarmi perché gli dessi qualcosa da mangiare anche se aveva abbondantemente pranzato con riso e fagiolini mi ho concesso una fetta di pane a metà pomeriggio ma un'ora dopo ha cominciato a chiederne ancora gridando a pieni polmoni e picchiandomi perché glielo negavo ha davvero la forza di un piccolo gigante proprio adesso mi ha chiesto che cosa sono le domande sensate con l'intenzione presumo di farmene qualcuna alle sette dopo aver opposto una furibonda resistenza il signorino è stato messo a letto devo riconoscere che nel suo modo arcigno Mrs. Peters è molto premurosa con lui oggi ad esempio sul vecchio cappello di paglia di Julian abbiamo trovato due nastri e a cucirli non può essere stata che lei non lo incoraggia ad entrare in confidenza e lui non sembra particolarmente attratto da lei né d'altro canto pare averne soggezione ma accetta di comunicare limitandosi allo stretto indispensabile e a queste condizioni lei è pronta a trattarlo con tutta la necessaria gentilezza a letto poco dopo le nove venerdì 8 agosto erano appena passate le 6 quando ci siamo alzati una mattina gradevole con un sole tiepido e nuvole che si trascinavano pesantemente soprattutto a nord e ad est vestigia della pioggia di ieri e forse presagio di un clima simile per oggi quando siamo andati a prendere il latte Mrs. Butler mi ha detto che non avrebbe più potuto darci il burro e quindi per procurarselo dovremmo rivolgerci a Highwood prima di colazione lo metto a sentito il miagolio di un gatto e dopo varie indagini abbiamo scoperto che proveniva dalla cisterna e infatti quando ho sollevato un asse ho avuto l'impressione che lì dentro ci fosse un gatto che nuotava nel disperato tentativo di salvarsi Mrs. Peters l'aveva sentito ieri sera ed è probabile che fosse lì da 10 o 12 ore ad annaspare in quel lugubre buco dopo numerosi tentativi di farlo uscire alla fine ho calato un secchio in cui la bestiola ha trovato il modo di infilarsi e così l'ho tirata fuori ma povera creatura era quasi sfinita e si trascinava a stento non c'è da stupirsene dopo la notte che deve aver passato le abbiamo dato del latte e ne ha leccato un po' era uno dei gattini dell'ultima figliata Deborah e Ellen sono venute di buon'ora a trovare Julian e il coniglietto Julian si è mostrato alquanto taciturno tra le 11 e le 12 sono arrivati Melville e i due di Wiking su una carrozza tirata da due cavalli Melville mi aveva detto quando era venuto a trovarmi che avrebbe condotto qui i due ospiti di cui attendeva l'arrivo e io mi ero ripromesso qualora fosse stato possibile di invitarli a pranzo ma oggi in casa non c'era assolutamente niente tutto si è risolto bene comunque poiché mi hanno proposto una gita e una colazione sull'erba a cui ho prontamente consentito per prima cosa tuttavia ho tirato fuori la sola bottiglia rimastaci dello champagne di Mr. Mansfield dopodiché siamo partiti portandoci dietro Julian naturalmente la giornata era stupenda né troppo fredda né troppo calda un po' velata da qualche nuvola ma senza alcun segno di pioggia imminente abbiamo preso la strada che va verso Hudson oltre la montagna e di lì a poco siamo giunti in un ameno boschetto dove ci siamo fermati a preparare la nostra colazione sull'erba ho il sospetto alla fin fine che avessero preso in considerazione la possibilità se non addirittura la probabilità che li invitassi a pranzo il pasto infatti non era stato né squisito né particolarmente abbondante soltanto panini imbottiti e pan pepato e a parte quest'ultimo non c'era nulla che andasse bene per Julian perché le fette di pane utilizzate per i panini erano state spalmate di burro e mostarda perciò ho dovuto far conoscere all'ometto per la prima volta in vita sua il pan pepato lui l'ha gradito moltissimo finché mangiato ne un bel po' si è accorto che non si trattava di vera e propria pietanza ad ogni modo la sua fame è stata placata e senza il condanno per la salute oltre al pan pepato in fondo al cestino c'erano delle noci e dell'uva passa che ha mangiato con gran soddisfazione ha trovato estremamente piacevole il viaggio in carrozza e tutto il resto come se per tutta la vita non avesse fatto altro che picnic dopo aver fumato sotto gli alberi parlando di letteratura e altre cose siamo ripartiti con l'intenzione di andare a visitare la colonia degli Sheckers di Hancock situata a sole due o tre miglia di distanza non so cosa Julian si aspettasse di vedere uno strano tipo di quadrupede suppongo ma in ogni caso la parola Sheckers era per lui fonte di grandi perplessità e probabilmente è rimasto un po' deluso quando indicandogli un vecchio con una tonaca e un cappello grigio a tesa larga gli ho detto che quello era uno Shecker l'uomo era uno degli anziani che sono a capo della comunità e sotto la sua guida abbiamo visitato l'abitazione principale del villaggio si trattava di un grande edificio in mattoni strutturato in modo ammirevole e pratico con pavimenti e pareti di legno lucido e in tonaco liscio come il marmo e tutto era così lindo che al vederlo si provava sofferenza e imbarazzo soprattutto perché in realtà quella pulizia non corrispondeva a una reale finezza o purezza morale degli abitanti della casa c'erano delle sputacchiere che a dire il vero non recavano segno d'essere state mai usate collocate a uguale distanza negli ampi e lunghi vestiboli le camere da letto dei due sessi erano separate da un vestibolo a un'estremità del quale erano appesi i cappelli degli uomini all'altra le cuffie delle donne in ogni camera c'erano due letti particolarmente stretti che a stento potevano accogliere una sola persona ma in cui come ci ha detto l'anziano dormivano in due nelle camere non vi era modo di fare il bagno o di lavarsi ma nel vestibolo c'erano un lavabo e una bacinella dove dovevano compiersi tutti i tentativi di purificazione ciò mostra che le loro meschine pretese di ordine e pulizia sono del tutto superficiali e che gli shaker sono e non possono non essere una setta sudicia e poi la mancanza totale e sistematica di qualunque riservatezza l'intimo contatto di un uomo con l'altro e la supervisione esercitata da uno sull'altro sono detestabili e ripugnanti al solo pensarci prima la setta si estinguerà e meglio sarà un'estinzione che vengo a sapere con gioia non si prevede troppo lontana nel tempo nella grande casa abbiamo visto una vecchia una donnetta grassa paffuta e allegra e due ragazzine che potevano avere tra i nove e i dodici anni queste ultime hanno guardato a noi adulti e a Julian con grande curiosità anche se di soppiatto e con la coda dell'occhio sull'uscio di altre abitazioni abbiamo visto donne impegnate a cucire o in altri lavori che sembravano vivere in modo abbastanza confortevole non più tuttavia delle loro bestie da soma le donne poi erano pallide e nessuno degli uomini aveva un'aria allegra sono certo il gruppo più strano e invasato che sia mai esistito in un paese civile e uno di questi giorni quando la setta e il suo sistema di vita saranno scomparsi una storia degli shaker potrebbe costituire un libro molto curioso il nostro meto si è girato per quel bizzarro villaggio saltellando e ballando l'ottimo umore non eravamo lì da molto quando ha chiesto di ritirarsi in privato e io non ho avuto nulla da obiettare al suo desiderio di lasciare in quel luogo un tale segno della sua considerazione la sola di cui fossero degni per il sistema e la colonia di quegli assurdi shaker credo che fossero circa le 5 quando abbiamo lasciato il villaggio l'enox distava probabilmente 7-8 miglie ma abbiamo sbagliato strada e siamo andati per monti e per valli attraversando zone sconosciute e percorrendo almeno il doppio del tragitto necessario è stata di gran lunga la gita più pittoresca che abbia mai fatto nei Berkshire da un'altura poco prima del tramonto si godeva una vista che spaziava per miglia e miglia con i cascol azzurri e lontani all'orizzonte poi abbiamo imboccato una strada che correva lungo un burrone profondo talmente profondo che gli alberi al suo interno lo riempivano solo a metà al di là del quale si ergeva una parete montuosa abbiamo proseguito per un bel po' dall'altro lato della strada nella foresta si aprivano di tanto in tanto delle radure attraverso cui si scorgeva la piana alla base della montagna mi piacerebbe se mai riuscissi a trovare la strada tornarsi a piedi non avevo idea che a poche miglia da casa nostra ti fosse una zona simile di lì a poco abbiamo visto la monumento mountain e la rattlesnake hill e tutti i tratti del paesaggio a noi familiare ad eccezione del lago che per una stregoneria che non riesco in alcun modo a spiegarmi era completamente svanito in teoria avremmo dovuto vedere il lago la nostra casetta rossa e highwood ma era impossibile scorgerli anche se lo scenario era indubbiamente quello il sole aveva già cominciato a tramontare quando ci siamo accorti che ci stavamo avvicinando al villaggio di lennox da ovest e perciò per arrivare a casa avremmo dovuto attraversarlo sono sceso all'ufficio postale e ho ritirato fra le altre cose una lettera di febe quando abbiamo lasciato il villaggio la luce del crepuscolo era svanita e se non fosse stato per la luna piena ci saremmo ritrovati nell'oscurità totale l'ometto ha continuato a comportarsi da viaggiatore esperto anche se di tanto in tanto si voltava a guardarmi dal sedile anteriore dove sedeva tra Herman Melville e Everdey King e sorridendomi con una strana espressione tendeva la mano per toccarmi era il modo di stabilire una complicità nel corso di quelle avventure che ai suoi occhi dovevano sembrare le più strane e inaudite mai capitate a viaggiatori mortali ben presto ci siamo fermati davanti al cancelletto della vecchia casa rossa così nutrendo seri dubbi sul risultato ma costretto dalla necessità del caso ho invitato il gruppo a prendere il tè e a lasciar riposare i cavalli prima del ritorno a Pittsfield per quel che ne sapevo Mrs. Spetters avrebbe anche potuto rifutarsi nel modo più assoluto di cooperare a un'ora simile con così pochi mezzi a disposizione tuttavia si è subito data da fare da quell'angelo nero che è mentre io per parte mia sono andato a Highwood a elemosinare un po' di zucchero in pani e qualunque altra cosa Mrs. Stappan fosse stata felice di concedermi anche lei si è mostrata angelica e mi ha dato non solo lo zucchero ma anche un vasetto di marmellata di lamponi e delle focaccine un dono inestimabile visto che il nostro pane era stantio al nostro arrivo Julien si era addormentato sul divano senza neppure togliersi il cappello ma quando sono tornato da Highwood ho visto che Mrs. Peters lo aveva già fatto cenare e l'ometto stava finendo di sgranocchiare l'ultimo pezzo di pane mentre lo svestivo gli ho chiesto se si fosse divertito e quel birichino che fino a mezz'ora prima era felice come mai in vita sua mi ha risposto no la stanchezza sopravvenuta aveva cancellato il ricordo ad ogni piacere non ho mai visto nessuno contento e soddisfatto quanto lo era lui nel distendersi a letto e non c'è dubbio che si sia addormentato prima che arrivassi in fondo alle scale poco dopo Mrs. Peters ha prontato la cena non molto sontuosa ma tutt'altro che misera a dispetto di quello che ci si sarebbe potuti aspettare tè pane e burro uova in camicia focaccine marmellata di lamponi e ho sinceramente ringraziato il cielo e Mrs. Peters che le cose non siano andate peggio dopo il tè abbiamo fumato conversando piacevolmente e alle dieci in punto gli ospiti sono partiti io ho scorso un paio di giornali e prima delle undici sono andato a letto era una notte magnifica senza nubi e illuminata dal vivo chiarore della luna piena tanto che avrai preferito percorrere in carrozza alle sei miglia fino a Pittsfield piuttosto che andarmene a letto sabato 9 agosto Julian si è svegliato in splendida forma questa mattina e verso le sei ci siamo alzati mi sentivo meglio dopo la spedizione di ieri e quando ho chiesto al signorino se si fosse divertito mi ha risposto di sì con un grande entusiasmo dicendomi che gli sarebbe piaciuto partire di nuovo e che voleva bene a Mr. Melville quanto a me alla mamma e a una poiché la notte scorsa il tempo era così bello e gradevole era scontato che questa mattina dovesse piovere e così è stato diluviava al nostro risveglio e nonostante avesse smesso quando sono andato a prendere il latte l'aria era molto umida e appiccicosa dai pendii delle colline si levavano veli di vapore e la Monument Mountain sembrava come avvolta dal fumo di una grande battaglia ho tenuto Julian in casa più o meno fino alle undici e poi al primo barlume di sole siamo andati nel fienile e in giardino il resto del tempo ha giocato a Shanghai ha cavalcato il suo cavalluccio ma soprattutto mi ha assordato e intontito ininterrottamente con il suo inarrestabile chiacchiericcio nel corso della mattinata gli ho letto la parte della lettera che la madre gli ha indirizzato e lui ha riso a più non posso non ci siamo potuti avventurare lontano da casa e dalle sue immediate vicinanze a causa del tempo e così abbiamo passato la giornata come meglio abbiamo potuto all'interno di tali confini credo di non aver mai sentito Julian parlare così incessantemente come ha fatto oggi se io non gli prestavo attenzione parlava da solo è stato d'eccellente umore tra le quattro e le cinque nel bel mezzo di uno degli acquazzoni più violenti della giornata abbiamo sentito una serie di fragorosi colpi alla porta d'ingresso Julian e io siamo corsi il più in fretta possibile a vedere di chi potesse trattarsi e aprendo la porta abbiamo visto un giovane sulla soglia una carrozza davanti al cancello e Mr. James che sporgeva la testa dal finestrino della carrozza e chiedeva rifugio dal temporale così abbiamo subito una vera e propria invasione Mr. e Mrs. James il figlio maggiore la figlia il figlio più piccolo Charles la cameriera e il cocchiere non che il cocchiere sia entrato e la cameriera dal canto suo è rimasta nell'ingresso povero me dov'era Febe al momento del bisogno benché colto alla sprovvista me la sono cavata alla meno peggio Julian mi ha aiutato un po' ma non troppo il piccolo Charlie ha qualche mese meno di lui e i due bambini perlomeno ci hanno fornito vari spunti di conversazione Mrs. James per fortuna sembrava terrorizzata dai tuoni e i fulmini e considerando che i boati erano forti e secchi e secchi la si poteva considerare horse du combat il figlio che pare avere circa vent'anni e la figlia che ne ha diciassette o diciotto hanno ritenuto opportuno non dire nulla come suppongo sia costume in Inghilterra tra i giovinetti della loro condizione perciò Mr. James era l'unico con cui fosse necessario fare conversazione e ci siamo intesi abbastanza bene ha detto che oggi era il suo compleanno e poiché aveva deciso di festeggiarlo con una gita di piacere era scontato che piovesse abbiamo parlato di riviste inglesi americane e dei puritani sui quali abbiamo opinioni piuttosto concordi Mr. James mi ha poi raccontato che di recente è stato sbalzato giù dal calesse e che il cavallo è scappato portandosi via sua moglie abbiamo anche parlato di lucertole verdi e di lucertole rosse Mr. James ha raccontato a Julian che da bambino aveva dodici guffi contemporaneamente e un'altra volta un corvo che rubava cucchiai d'argento e monete ha parlato anche di uno scoiattolo e di vari animali domestici e Julian ha riso a crepapelle il piccolo Charlie da parte sua era molto interessato al coniglietto e in egual misura al cavallo ad ondolo che fortunatamente si trovava in soggiorno ha esaminato il cavallo con occhio critico e ha fatto mille domande esprimendosi in modo particolarmente chiaro e senza mostrare la benché minima timidezza alla fine è montato in groppa ma non si è rivelato un cavallerizzo all'altezza di Julian il nostro caro ragazzo non ha quasi spiccato parola e a dire il vero non c'era da aspettarsi altro sotto l'impedo di quell'irruzione alla fine cessato l'acquazzone gli invasori sono ripartiti e spero davvero che se un'occasione del genere dovesse ripresentarsi a occuparsene ci sia mia moglie non appena sono andati via Mrs. Peters che aveva fretta di sistemare tutto e tornarsene a casa ha messo in tavola la cena di Julian ora sono le 6.20 ho trascorso una serata piuttosto malinconica e a letto alle 9 domenica 10 agosto 1851 ci siamo levati poco dopo le 6 la mattina era particolarmente fredda con un forte vento che ispirava da nord est e nubi cupe e colleriche sparpagliate tutti intorno soprattutto verso nord quando siamo andati a prendere il latte Luther si è detto convinto che il gran turco non darà un buon raccolto quest'anno difatti non sembra neppure ad essere in estate ho preparato la colazione e la mattina è trascorsa senza incidenti fino a che verso le 10 siamo usciti per andare al lago lì l'ometto ha preso un ramo secco e si è messo a pescare con grande convinzione una simile perseveranza merita certo ricompensa migliore di quella che probabilmente otterrà anche se lui sembra divertirsi e a cose fatte non mostra mai alcun segno di delusione abbiamo lanciato dei sassi nell'acqua poi mi sono sdraiato in riva al lago sotto gli alberi a osservare i suoi piccoli traffici la sua instancabile attività che allegra come un raggio di sole rischiarava la mia cupezza con il riflesso della sua allegria dal lago abbiamo risalito il pendio combattendo contro i tassi barbassi e i cardi poi io mi sono seduto sul limitare della pineta quale che sia il luogo in cui ci fermiamo lui trova tante di quelle cose con cui divertirsi che oppone sempre una forte resistenza quando cerco di portarlo via dopo aver trascorso lì qualche tempo abbiamo raggiunto il campo al di là della pineta dove lui ha insistito perché mi sedessi su una gran roccia e lo lasciassi scavare nella sabbia il chiaro ragazzo ha fatto delle piccole buche e dei monticelli di sabbia immaginando che le sue costruzioni fossero case di fate e sono convinto che sarebbe stato felice di trascorrere lì il resto della giornata se io fossi stato altrettanto soddisfatto ci siamo avviati verso casa passando accanto alla sorgente a cui abbiamo bevuto e quando siamo arrivati era luna passata per pranzo gli ho dato pane e acqua e un piccolo avanzo di farinata di gran turco mentre io ho mangiato un pezzo di torta e un cetriolo poi siamo usciti a dar da mangiare alle galline dopodiché mi sono sdraiato sul pendio a fumare un sigaro mentre sopra di me nel cielo azzurro e sereno splendeva un sole gradevole caldo ma non troppo opprimente Julian nel frattempo giocava lì intorno non così lontano da non avvertire la mia presenza e tuttavia abbastanza da potersi rivolgere a me solo gridando e ogni volta che gridava la voce chiara di un bambino in lontananza ripeteva con un grido più flessibile le stesse identiche parole era l'eco e così siamo giunti alle due e mezza il marmocchio si sta ora dondolando sul cavalluccio e mi parla alla massima velocità che la sua lingua gli consenta pietà non c'è mai stato uomo più bersagliato di me dalle chiacchiere d'un bambino al fondo di tutte quelle ciance c'è un gran bisogno di compagnia vuole accrescere ogni suo piacere immergendolo nel cuore di un amico non credo che corra il rischio di vivere una vita solitaria come a lungo è stata la mia nel pomeriggio abbiamo raccolto del ribes che ho schiacciato e poi gli ho dato per cena finito di mangiare ce l'abbiamo fatta prima delle sei siamo andati nel fienile una mattina molto bella vero papà ha detto lui mentre uscivamo mi piacerebbe poter registrare le sue sortite più aforistiche ma mi accorgo che sarebbe valsa la pena di annotarle solo quando le ho dimenticate e non posso più trascriverle integralmente oggi dopo aver abbattuto un gran numero di cardi ha osservato il mondo non è che un gran pungitore si è fatto l'idea che non lo considero molto saggio e oggi pomeriggio mi ha chiesto papà tu credi che io non sappia niente sì gli ho risposto ma ho saputo chiudere la porta del salottino e tu invece non ci sei riuscito ha ribattuto lui sono molto lieto che possa trovare una forma di consolazione in questo esempio di accortezza pratica anche se si è trattato alla fin fine di un mero colpo di fortuna ciò nonostante credo proprio che abbia la stoffa per raggiungere la saggezza a tempo debito ma il cielo non voglia che accada troppo presto prima di svestirlo quando era ormai ora di metterlo a letto gli ho lasciato fare quello che forse gli piace più di ogni altra cosa fingere una furibonda battaglia e alle sette era finalmente stremato voglio dire chiaramente per una volta che è un ragazzino dolce e adorabile e merita tutto l'amore che sono capace di dargli ringrazio Dio che Dio lo benedica Dio benedica Febbe per avermelo dato Dio la benedica perché è la moglie e la madre migliore del mondo Dio benedica una che non vedo l'ora di riabbrazzare Dio benedica la piccola Rosebud Dio benedica me per il bene di Febbe e dei bambini nessun uomo ha una moglie così buona nessuno ha figli migliori come vorrei essere più degno di lei e di loro le mie serate da solo e senza libri che abbia voglia di leggere sono sempre tristi e questa non è stata diversa dalle altre perciò sono andato a letto verso le nove a struggermi per Febbe lunedì 11 agosto l'ometto mi ha chiamato nel cuore della notte per dirmi con molta calma che non faceva dei bei sogni il Ribes che aveva mangiato a cena gli aveva ammociuto e di fatti glielo sentivo gorgogliare nello stomaco anche lui udiva quel rumore ma non capendo da dove provenisse mi ha domandato di cosa si trattasse poco dopo si è riaddormentato e ha dormito un po' più del solito tanto che poco prima delle sette mi sono alzato ho fatto il bagno e poi ho dovuto svegliarlo mrs petters è tornata prima che avessi finito di fargli il bagno mentre andavamo a prendere il latte ha sgranocchiato una fetta di pane era una mattina chiara senza vento e piuttosto fresca dopo colazione ho raccolto dei fagiolini e ho fatto scorta di zucchine poi ho arricciato la chioma del signorino e sono salito di sopra per dedicarmi alla mia toiletta prima delle dieci siamo usciti a fare una passeggiata sul pendio della montagna lungo la strada che va ad hudson il tempo non poteva essere più gradevole caldo ma non troppo tranne che in piano sole e con una leggera brezza che conservava in sé il ricordo di un iceberg come tutte le brezze di questa estate una passeggiata piacevolissima il caro ragazzo che si merita pieno di essere nominato cavaliere del cardo ha compiuto grandi prudezze contro i suoi vecchi nemici e io non mi sono risparmiato Julian ha anche trovato molti fiori mostrandosi entusiasta della loro bellezza spesso ha profuso le sue lodi a quelli più scialbi ha davvero una grande passione per i doni della terra quando abbiamo visto alcuni uomini che abbattevano degli alberi nel bosco davanti alla casa di mister Flint il marmocchio è andato su tutte le furie essendo che lui avrebbe preferito fare a meno del fuoco e bere latte freddo abbiamo percorso un lungo tratto di strada finché non siamo giunti in vista di una casa situata in quello che mi è sembrato il punto più alto nel folto della foresta allora abbiamo fatto dietro front e ci siamo riposati su due tronchi a una certa distanza dalla strada Julian ha detto che uno di quei tronchi era il vecchio gigante disperazione e che era morto poi si è messo a scavare una buca poco profonda dicendo che quella sarebbe stata la sua tomba io ho obiettato che non era delle giuste dimensioni ma lui mi ha informato che nell'attimo stesso in cui era morto il gigante era diventato piccolissimo mentre ce ne stavamo seduti lì è passato un uomo su una carrozza a quattro ruote subito dopo è sopraggiunto un elegante tiro a due su cui viaggiavano due signore e un gentiluomo dal volto incorniciato dai favoriti dando vita a un festoso quadretto in quella strada boschiva dalla direzione opposta è arrivato un carro guidato da un ragazzo su cui c'erano una donna e una bambina che suppongo fossero la madre e la sorella del guidatore la donna è scesa e venendomi incontro mi ha chiesto se avessi visto delle galline smarrite a quanto pare mattinata mentre percorrevo quella strada avevano perso alcune delle galline che trasportavano sul carro ed erano tornati a cercarle ma per il mio tanto sarebbe valso a cercare di snidare dagli alberi gli uccelli selvatici in ogni modo quando siamo andati via continuavano a cercare le galline e il ragazzo gridava pio 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 con un chiedi lacrimevole nella voce per quanto ne so forse le sta ancora chiamando anche se ormai si saranno perse nel bosco e magari si accoppieranno con le pernici o daranno inizio a una razza di galline selvatiche julian ed io ci siamo incamminati verso casa più lentamente che all'andata perché il sole si era fatto cocente e la passeggiata era già stata molto lunga strada facendo abbiamo trovato delle more di rovo ma ho permesso a julian di mangiarne pochissime e perciò ho approfittato io delle piccole manciate che aveva raccolto erano circa le dodici quando siamo giunti a casa julian ha dichiarato una particolare nostalgia della madre di una oggi e dichiara con grande enfasi l'amore che prova per loro non credo abbia riservato a rosebud alcun posto tra i suoi affetti ma quando gli ho chiesto se non volesse bene anche a lei mi ha risposto sì come se fosse del tutto scontato ora sono quasi le due e mezza e vuole fare una passeggiata fino al lago ci siamo andati e appena arrivati il poverino ha preso un ramo spoglio e si è rimesso all'opera con tutta la pazienza di un piccolo pescatore io sono rimasto a lungo disteso sulla verde sfonda del lago in parte all'ombra e in parte al sole la brezza sembrava aspirare da sud ed era piuttosto forte tanto da cantare tra gli alberi e sollevare delle piccole onde che venivano a infrangersi contro la riva mi sono quasi addormentato e ogni volta che riaprivo gli occhi l'instancabile pescatore era sempre al suo posto dopo un po' mi ha chiesto di andare alla roccia della mamma così ha infatti battezzato una grande roccia presso la quale l'autunno scorso i bambini andavano a raccogliere le noci insieme a Febe Giulia mi ha poi informato che da grande costruirà su quella roccia una casa per sua madre e anch'io potrò abitarci quando crescerò ha detto tutti dovranno obbedirmi abbiamo visto la roccia della mamma poi lui ha raccolto le noci dell'anno scorso e si è ostinato a schiacciarle una dopo l'altra sempre convinto di trovare un buon gheriglio ma senza mostrarsi troppo deluso quando ha scoperto che erano tutti marci dopo essersi trattenuti lì per un po' siamo tornati a casa attraversando il pascolo l'ometto non faceva che saltare tra l'erba alta e i ciuffi di fiori sempre vivi e io paragonando la sua traboccante vivacità i miei pazzi esitanti mi sono rallegrato che il giovane tra noi fosse lui siamo arrivati a casa alle cinque ho appena messo a letto il caro ragazzo alle sette meno un quarto ha espresso il timore di rifare il brutto sogno della notte scorsa ma gli ho detto che non avendo mangiato il ribes questa sera probabilmente non avrebbe avuto un sonno agitato dice di aver sognato dei cani ha letto verso le nove martedì 12 agosto alzati dopo le sei il signorino ha detto di aver trascorso una notte molto piacevole e senza sogni quanto a me ho l'impressione di essermi girato e rigirato per tutta la notte il che è stranissimo considerato che a cena non avevo mangiato neppure un boccone la mattina la mattina era tiepida con un cielo parzialmente coperto e brume sulle colline mentre andavamo a prendere il latte è spuntato un sole incerto che ben presto è di nuovo sparito Julian saltellava allegramente ed era del miglior rumore immaginabile sembra un tipetto davvero buffo questa settimana i pantaloncini che indossa sono particolarmente corti e perciò lasciano scoperta gran parte delle gambe abbronzate da un certo punto in poi e per il resto completamente bianche dopo colazione quando sono ridisceso dopo essermi vestito ho trovato sul tavolo una lettera di Febe che fissava per giovedì la data del suo ritorno Julian è convinto che torni domani e non c'è verso di contraddirlo verso le undici abbiamo fatto la nostra passeggiata fino al lago dove naturalmente il signorino ha ripreso il suo passatempo piscatorio la giornata così calma e nuvolosa sarebbe stata perfetta per pescare sul serio ma prima che ce ne andassimo la brezza aveva cominciato a increspare e ad agitare la superficie del lago era quasi ora di pranzo quando siamo rincasati ma è stato innanzitutto necessario placare con una fetta di pane la fame del signorino che poi ha banchettato con riso zucchine e fagiolini dopo pranzo mi sono seduto a leggere un libro nel salottino e per la prima volta da quando sua madre è partita Julian si è allontanato ed è scomparso per un'ora alla fine mi sono detto che era giunto il momento di cercarlo ora che sono solo con lui infatti alle mie ansie si aggiungono tutte quelle della madre così sono andato nel fienile e poi nei pressi dei cespugli di ribes ho fatto il giro della casa gridando senza ottenere risposta e alla fine mi sono seduto sul fieno non sapendo più da che parte cercarlo ma di lì a poco l'ho visto sbucare da dietro casa correva tutto sorridente levando in alto il piccolo pugno e gridando che aveva una cosa buonissima per me la cosa buona si è rivelata una poltiglia di lamponi more e ribes rimasti a cuocere nel suo pugno per più di un'ora un tipo di preparazione che avrebbe indotto sua madre ad apprezzare quei frutti ancora di più non ho avuto cuore di rifiutare del tutto il suo dono perciò ho preso un po' di ribes che per puro caso non era stato schiacciato e gli ho permesso di mangiare il resto perché mi ha detto di non averne assaggiato neppure un po' quando erano ormai le quattro l'ho vestito mi sono vestito e siamo usciti per andare in paese c'erano delle nuvole che a volte intercettavano gentilmente il sole ma è stata la giornata più torrida di tutta l'estate e ho davvero sofferto per il caldo un caldo greve e opprimente in paese ho trovato una lettera di Elizabeth una di Longfellow e un'altra di una signora che chiedeva un autografo sulla via di casa lo metto così stanco e accaldato che ha voluto essere portato in braccio ha dichiarato di non voler andare mai più in paese e neppure al lago la passeggiata era stata davvero faticosissima e adesso alle sette sto per metterlo a letto era un giardino dopo averlo messo a letto quando lungo la strada è passata Mrs. Steppan e mi ha proposto di accompagnarla a casa per vedere se ci fosse qualche libro di mio gradimento ci sono andato e ho preso un numero dello Harper's Magazine e un altro paio di riviste le ho portato una lettera di Ellery Channing che si dice desideroso di farle visita ma lei ha intenzione di scoraggiarlo per il momento a causa della mancanza di spazio e della presenza di un neonato in casa mi ha chiesto in tutta serietà se non avremmo potuto riceverlo noi visto che la nostra casa è molto più grande e da noi non ci sono neonati ho sfogliato le riviste fino alle nove e mezza e poi a letto mercoledì 13 agosto 1851 il marmocchio non si è messo in moto di buon'ora come al solito e quando dopo un po' che ero sveglio ho deciso di alzarmi mi sono accorto che erano quasi le sette ho fatto il bagno prima di chiamarlo il cielo era coperto e le brume dormivano ancora un sonno profondo sulle colline anche se qua e là si scorgevano i raggi del sole che attraversandole cominciavano a scioglierle e la giornata si annunciava calda e luminosa suppongo che la bruma e le nubi siano un fenomeno solo locale e che quindi Febe avrà una bella mattinata per mettersi in viaggio verso casa dopo tutto pare che Julian avesse ragione quando si ostinava ad affermare che sua madre sarebbe tornata oggi adesso però sembra rassegnato all'idea che abbia rinviato a domani il suo ritorno ciò nonostante non pensa ad altro e poco fa quando mi ha visto indossare un paio di pantaloni di lino puliti mi ha chiesto se li avesse messi in onore della mamma mentre andavamo a prendere il latte mi ha parlato della gioia che avrebbe provato all'arrivo di sua madre e di come si sarebbe comportato bene ma poi tornando a casa mi ha parlato di una di quanto fastidio gli aveva dato e di come avrebbe reagito se non avesse smesso non credo che il poverino abbia mai vissuto un periodo così tranquillo come quello trascorso insieme a me o che potrà mai passarne un altro simile alle dieci abbiamo fatto una passeggiata fino a Tanglewood del tutto priva di avventure e alle undici eravamo di ritorno abbiamo passato il resto della mattinata in casa perché faceva molto caldo e Julian era restio a muoversi dice di non sentirsi bene ma non sa descrivere i sintomi del suo malessere sono propenso a credere che il pranzo lo rimetterà in sesto nel frattempo gli ho dato una dose di aconito il miglior rimedio cui si è riuscito a pensare non mi pare abbia lo stomaco in disordine forse la faticosa passeggiata di ieri con quel caldo gli ha fatto male dopo pranzo siamo usciti e ci siamo seduti per un po' sotto gli alberi il resto del pomeriggio l'abbiamo passato in casa tranne quando il signorino è uscito per assistere al carico del fieno e fare un breve giro sulla carretta alle cinque si è lamentato di avere mal di testa e gli ho dato una dose di bella donna verso sera si è rianimato ha cenato con appetito e nel complesso mi è sembrato in forma come al solito alle sette ha intrapreso con grande ardore la sua amata battaglia e adesso è a letto avevo davvero sperato sicuro di poter fare affidamento sulla lettera di elisabeth che questa sera prima di addormentarsi julian potesse vedere sua madre ho sfogliato una rivista in serata e alle nove sono andato a letto giovedì quattordici agosto ho passato lunghissime ore di veglia nel cuore della notte e mi sono addormentato che era già quasi giorno il marmocchio si è svegliato prima di me dopo aver indugiato un po' ci siamo alzati entrambi accorgendoci che non erano ancora le sei julian mi è parso vivace e in forma mentre andavamo a prendere il latte abbiamo visto un tenue arcobaleno pioveva infatti ma in modo appena percettibile e allo stesso tempo brillava un pallido sole e i segni che da allora continuavano a manifestarsi mi fanno pensare che l'arcobaleno fosse un presagio di cattivo tempo per la giornata mentre camminavamo il nostro signorino ha filosofeggiato sugli arcobaleni ma non ricordo niente di ciò che ha detto se non che il sole è la luce dell'arcobaleno la colazione ha cominciato a galoppare con la fantasia dicendo che sarebbe salito tra le nuvole e poi le avrebbe spazzate via in modo che sua madre potesse tornare a casa con il bel tempo anche ha annunciato che avrebbe raddrizzato quanto più possibile la monument montagne allo scopo credo di arrampicarci sopra e arrivare fino alle nuvole notando la torta che Mrs. Peters aveva messo in tavola per me si è mostrato insoddisfatto della sua colazione e ha preteso qualcosa di diverso dal solito pane e latte gli ho detto che questa mattina il suo pane era fatto con il lievito e lui si è messo a mangiarlo con grande appetito convinto che fosse il migliore che avesse mai assaggiato circa un'ora dopo aver fatto colazione ha sofferto di mal di pancia e gli ho dato della pulsatilla a quanto pare si è trattato di una colica piuttosto forte ma che non ha avuto conseguenze ora è passata e lui sta sfogliando il libro illustrato tedesco l'ottimo umore la giornata sembra aver assunto un carattere stabile nuvoloso e cupo perlomeno se non del tutto inclemente non so tuttavia se non sia forse più agevole per Febe viaggiare con questo tempo piuttosto che con l'afa di ieri come vorrei che fosse già qui adesso sono le nove e mezza e tra otto ore giungerà il momento di udire le ruote del suo cocchio poiché fa freddo e il cielo è coperto abbiamo trascorso la mattinata in casa il caro ragazzo felicissimo si è divertito facendo ritagli di carta guardando le figure cavalcando il suo cavalluccio e chiacchierando continuamente con me senza mai lasciarsi andare a un momento di malumore a cui per dire il vero non è molto incline o di abbattimento il mal di stomaco non è ricomparso ha consumato un pranzo abbondante mangiando maccheroni riso zucchine e pane e spero che sua madre sia qui prima di sera in modo che possa riceverlo dalle mie mani in condizioni perfette e gioire del chiacchiericcio che per quasi tre settimane ha attraversato come un ruscello ogni mio pensiero oggi julian non sembra pregustare in modo così vivido il piacere del ritorno della madre non ha un'idea precisa del significato di presto o adesso o di altre categorie temporali quanto a me se febbe non dovesse arrivare questa sera ne sarei amaramente deluso alle tre o poco più tardi julian ha talmente insistito per chi andassimo al lago che ho dovuto assecondarlo tanto più che nel frattempo era spuntato il sole così ci siamo messi in cammino l'ognomo era il colmo dell'euforia al punto che un paio di volte si è letteralmente rotolato dal ridere per un non nulla una volta giunti al lago si è calmato e si è messo a pescare con l'imperturbabilità di un pescatore provetto ma ormai il cielo si era rannuvolato di nuovo e il lago battuto dalle raffiche di vento aveva un'aria collerica e burrascosa ho temuto che facesse troppo freddo perché il signorino potesse restare a lungo assorto in quella attività e perciò l'ho chiamato e ci siamo fatti strada verso casa combattendo contro i nostri immancabili nemici i cardi ora sono quasi le cinque e certo nel giro di un'ora o poco più febe ci apparirà in tutto il suo fulgore sembra davvero un secolo da quando è partita credo di udire il rumore delle ruote adesso non era lei julian ha esclamato oh come vorrei che mamma arrivasse ho tanta voglia di vederla 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 papà forse quando la rivediamo rose sarà cresciuta incredibile a dirsi non è arrivata poco dopo le sei ho messo julian a letto e poi sono andato all'ufficio postale il tramonto era limpido e bello l'aria frizzante e settembrina sempre più stupito non ho trovato nessuna lettera devo perciò concludere che fosse sua intenzione rientrare oggi può darsi ci sia stata una forte pioggia questa mattina nei dintorni di boston che le abbia impedito di mettersi in viaggio poco prima di arrivare a casa ho incontrato mrs steppan mi ha detto che mr ward il quale avrebbe dovuto scortare febe e le bambine non era arrivato non è improbabile che sia lui la causa del ritardo in serata ho letto il giornale alla luce fiocca di una lampada e sono andato a letto alle nove e mezza venerdì 15 agosto stamattina ci siamo alzati che erano già le sette la giornata era molto limpida e pervasa da una freschezza autunnale con una brezza che soffiava la nord-est quando siamo andati a prendere il latte ho messo la giacca di lana al caro signorino ma temo che le sue povere gambette scoperte tra le calze e i calzoncini fossero piuttosto esposte tuttavia mi è venuto dietro con grande lacrità e nel corso della passeggiata è ruzzolato ben tre volte mentre ritornavamo a casa abbiamo incontrato tre signore a cavallo scortate da un gentiluomo l'ometto mi ha chiesto se le trovavo belle aggiungendo che a lui non lo sembravano affatto a mio parere invece lo erano ma ho il sospetto che lui non abbia gradito vederli a cavallo e devo concordare con lui che una donna offre in tale atteggiamento uno spettacolo innaturale e sgradevole il caro ragazzo tuttavia è molto critico in fatto di avvenenza anche se ritengo che al fondo del suo biasimo ci sia di solito un'offesa al senso delle convenienze del decoro e tale senso è a volte convenzionale ad esempio ha negato che la signora quacquera venuta a farmi visita fosse graziosa ma in realtà non gli erano piaciuti la foggia inconsueta del suo abito e l'antiquato modo di esprimersi tipico dei quacqueri alle dieci siamo usciti per fare una passeggiata fino al lago lungo la strada e per tutta la durata dell'escursione julian non ha fatto che parlare del gigante disperazione attribuendo tutte le proprie disavventure a quel malefico personaggio gli è capitato di calpestare del fango di mucca fresco così lo chiama una e ha detto che era stato il gigante a farlo lì solo per dargli fastidio quando siamo giunti alla parte navigabile dello shadow brook mi sono sdraiato sulla riva in pieno sole a crogiolarmi godendomi la piacevole sensazione di quel calore eccessivo mentre di tanto in tanto un alito di vento riusciva ad arrivare fin lì rinfrescandomi con il suo rigore e in parte lì in parte in riva al lago ho fumato un sigaro è un pomeriggio perfetto nel suo genere ma aggiunge quasi con un mese d'anticipo julian che come al solito ha pescato e poi si è messo a lanciare sassi in acqua sembrava non stancarsi mai di esplorare la sponda del lago al pari del martin pescatore che spesso vediamo svolazzare da un ramo secco all'altro io invece dopo un po' mi sono stancato e ho insistito perché tornassimo a casa dove siamo arrivati a mezzogiorno in punto ora sono le quattro e mezza oggi non abbiamo fatto altre escursioni ci siamo limitati a oziare in casa o nelle immediate vicinanze julian non sembra figurarsi come imminente il ritorno della madre anche se un paio di volte ha detto che era una bella giornata per il suo arrivo forse lei è già in paese ho la sensazione che stia per arrivare ma dopo le precedenti delusioni non la considero una certezza julian sembra in ottima forma ma devo ammettere che da quando è partita la madre i suoi capelli non sono mai stati così in disordine eppure li ho arricciati con tutta la cura possibile oltretutto ha infagottato nella giacca di lana che gli sta malissimo ma non c'è verso di indurlo a farne a meno suppongo perciò che sua madre penserà che sia stato conciato così sin da quando lei è partita il coniglietto è chiaramente in cattivo stato ieri mi era sembrato un po' malato e oggi lo è in modo ancor più evidente è stato appena colto da un attacco di brividi julian crede che abbia la scarlattina poiché è l'unica malattia di cui ha una certa pratica è appena venuto mister ward alle cinque e mezza convinto che febbe fosse arrivata ieri il mistero si infittisce elizabeth elizabeth mi aveva scritto che l'avrebbe scortata lui mercoledì quel giorno gli è stato impossibile partire ma immaginava che febbe sarebbe arrivata giovedì insieme a missis minot dove sarà mai subito dopo cena ho messo julian a letto e sono andato immediatamente in paese ancora nessuna lettera da sofia penso che debba aver frainteso gli spostamenti di mister ward e che abbia attardato in attesa della sua scorta all'ufficio postale c'era una grossa scatola indirizzata a me che probabilmente contiene gli acquisti che lei ha fatto a boston tornato a casa ho trascorso la serata leggendo i giornali in uno di essi il new york evening post ho letto un resoconto della cerimonia di conferimento delle lauree al wesleyan university di middleton nel connecticut tra i discorsi pronunciati in tale occasione edwin hosley cole originario di clomwell ha recitato una moderna orazione classica su di me non ho ben compreso la natura di tale opera né se sia stata declamata in latino o in volgare ma sarei stato curioso di ascoltarla ha letto sconsolato poco prima delle dieci sabato 16 agosto l'ometto si è svegliato prima che facesse giorno ed è restato sveglio per un bel po' tenendo sveglio naturalmente anche me ma poi si è riaddormentato e ha dormito quasi fino alle sette quando entrambi ci siamo alzati entrando nella stanza da bagno ho sbirciato nella scatola del coniglietto con una sorta di presentimento di ciò che poteva essere accaduto e infatti la povera bestia giaceva lì stecchita l'attacco di brividi di ieri ne era apparso fatale non ho idea di quali disturbi abbia sofferto le sue funzioni digestive sembravano normali e il solo sintomo percepibile negli ultimi due giorni era una certa riluttanza a muoversi e a mangiare Julian mi è parso interessato ed eccitato all'evento più che afflitto lo ha imputato come fa per qualunque altra sventura all'intervento del gigante di sperazione e mentre andavamo a prendere il latte ha dichiarato che quella era la cosa più cattiva che il gigante avesse mai fatto molto più cattivissima del fango di mucca dopo colazione ho scavato una fossa e abbiamo piantato il povero coniglietto in giardino e il signorino ha espresso la speranza che per domani su di lui possa spuntare un fiore dopo aver arricciato la chiama di Julian ed essermi rasato l'ho mandato a Heightwood con un biglietto per Mrs. Stappan con cui la informavo dello scatolone che giaceva all'ufficio postale l'ho lasciato intendere che probabilmente conteneva la sua farina di riso e che aveva poche probabilità di riceverlo se non avesse mandato il calesse a prendere la scatola era il metodo giusto di presentare la questione e lei l'ha presa bene e ha detto a Julian che avrebbe mandato a ritirarla ora sono quasi le dieci e Julian mi sta assalendo per andare al lago ha appena detto forse domani ci sarà un albero di coniglietti tutti appesi per le orecchie avevo già avuto avuto modo di notare nei bambini la strana propensione a trattare la morte quella degli animali perlomeno come uno scherzo anche se con un certo nervosismo Julian ha riso molto della dipartita del coniglietto siamo andati al lago ottemperando il desiderio del marmocchio Julian ha portato con sé la piccola imbarcazione che lo zio Net gli ha costruito tempo fa e che da ieri è il suo giocattolo preferito la calata in acqua e sembrava un vero e proprio veliero mentre beccheggiava su e giù tra le onde credo che sarebbe stato felice di trascorrere un centinaio d'anni senza altro passatempo che quello io nel frattempo ho tirato fuori dalla tasca il National Era e l'ho letto con una certa attenzione mi era già capitato di notare che il modo migliore per farsi un'idea o un'impressione vivida di un paesaggio è quello di sedervici dinanzi e mettersi a leggere o immerzersi nei propri pensieri così poi quando gli occhi vengono attratti dal paesaggio si ha la sensazione di cogliere la natura alla sprovvista vedendola prima che abbia il tempo di mutare aspetto l'effetto l'effetto non dura che un istante e svanisce non appena se ne diviene consapevoli ma per quell'attimo è reale è come se si riuscisse a origliare e a comprendere ciò che gli alberi bisbigliano tra loro come se per un attimo si riuscisse a intravedere senza veli un volto che di solito si cela a ogni sguardo inquisitore il mistero è svelato e l'istante dopo ridiventa un mistero mi è capitato di intravedere qualcosa del genere questa mattina anche se non in modo così perfetto come a volte accade erano le dodici e mezza quando siamo tornati ho dimenticato di riferire che ho lasciato il biglietto per Mr. Steele all'ufficio postale con cui gli chiedo di attendere Febbe a Pittsfield se non arriva oggi non so proprio cosa farò stando all'orologio sono quasi le sei e non arrivano devono 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 essere qui questa sera un quarto d'ora dopo aver scritto queste parole sono arrivate tutto bene grazie a Dio 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 grazie a Dio